E' un creatore nuovo Face to face, mega rampa Che meraviglia, spettacolare Ok Atterriamo bene, non si è buggata la defesta E meno male Andiamo, 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 belli veloci, non metterò la sui E sta a combinarmi con tutti questi palloni Come si chiama? Aspettate Defemero Oh, sui, siamo vivi Oh, sopra il check Ma con che stile, regà Stupendo, stupendo, andiamo Sono esplosi Due suini, poveretti Che tesoni Ok No, tocco il tubo, regà Mamma mia, regà Ci siamo, ci siamo State tranquilli Quanti c'è? Che 3 su 15 Andrebbe essere gigantesco questo face to face Ok, ok Proteggimi, Mirko Allora, qua dobbiamo fare attenzione Perché ogni volta prendiamo un busto Freniamo Sei vivo, Mirko? Dove è andata a finire, regà? Aspettate Lui a terra sopra il check Guardalo che fortuna Eh, noi stiamo trollati Eh, sì, sì Aspettate Rimettiamoci bene Ok, ok Che macchina c'è? Bella la prima Tuvo il tic Regà Non so se mi conviene Fare tipo una cosa del genere Troppo rischiosa Perché non so se atterro sulla rampa Perché è questo il problema Invece atterriamo la perfezione Ok, aspettate Ok, ok Siamo vivi, eh Allora, pure i primeri Meraviglioso Via, 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 via Quello veloce Qua freniamo Qua facciamo così No, 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 regà Stavo per commettere un errore allucinante Ok, volevo attivare il turbo Per tornare giù Più velocemente possibile Invece Stavo per sbagliare Allora, teoricamente Atterriamo super alla rampa Vero? Sì Tutto ok Bella miniatura mi serve Regà, qualcuno che viene qua Scusami sui Miniatura, miniatura Wow, wow Meraviglioso Allora Andiamo su Mi cerca 5 su 15 Proseguo qua Secondo HTA Che fine ha fatto Mirko? Oh, regà Aspettate che non voglio esplodere Mamma mia Ho rischiato, eh Allora, possiamo disattivare Rockstar Editor Che tanto abbiamo fatto la miniatura Insurgente Pickup Allora, non si dovrebbe buggare Perché non è una mica rampa angolata Questo Si bugga sempre In una mica rampa angolata Regà Senti che forse Ci abbiamo Quel pizzico di fortuna Mamma mia Ci siamo, ci siamo Allora Menomale che ha messo Tanto turbo, eh No Ok Questo arzuino controllato poco fa Non si è vendicato Grazie, grazie Allora Saliamo su Dai, dai È bello veloce Insurgente Pickup Freniamo qui Ok Tocchiamo qua, regà Non esplode questo Tanto è armato, vero? No, no Tanto siamo atterrati bene Meno male Ok, ok Cosa abbiamo qui? Ruiner 2000 Meraviglioso Possiamo pure rischiare Che tanto C'è il Paragatute, regà Insattiviamolo Allora, disattiviamolo Sennò ci mettiamo 50 anni, eh Allora, aspettate che c'è un Insurgent Oh, 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 regà Ho preso il turbo con tutto il Paragatute Allora, un po' di cortolo Così andiamo Belli veloci, regà Super rapidi Ci portiamo questo bel face to face a casa In prima posizione Oh, aspettate No Attivati, attivati Ok, regà No, no, no Attivati di nuovo Perfetto Camion e rampa, regà Questa è terribile Allora, 8 checkpoint su 15 Chi è esploso? Non lo so Oddio, c'è qualcuno qui, eh No, tutto ok, tutto ok Andiamo, andiamo E' tranquillo comunque Come face to face, eh Ok, ok Tutti educati Tutti educati, regà Perdonatemi Saliamo, saliamo Allora, cosa abbiamo qui? Aspettate, facciamo così No, devo frenare di più Qua c'è il rischio di esplode, eh Tutto ok, tutto ok Motocicletta Che modo avrò messo, regà? Aspettate Rimettiamo il camioneram Un po' come si deve Ok, ok Shotaro Bella la Shotaro, regà Meravigliosa Forse ci possiamo Sparare pure un glide? Aspettate Eh, no No, no, no Non viene Ci rischia pure che Metrolo perché Atterriamo qua, eh Lo sapevo, regà Lo sapevo C'ho, io crede, eh Tanto siamo ancora Primeri Credo di sia Vediamo Sì, sì, sì Belli primeri Belli primeri Non vi preoccupate Quanta gente Sta esplode Allora, scendiamo piano Ole, ole, ole Ci sono Ci sono Dai, dai, dai Belli veloci Belli rapidi È pure una bella Miniatura con la Shotaro Spettacolare Messaggi neanche uno Madre mia Siamo vivi Siamo vivi Ok No Dai, regà Me l'ho salvato Aspettate Com'è possibile Non sono rimasto Trollato con i veicoli Più trollosi E devo rimanere Trollato con la Shotaro Non atterrare Sopra il tubo Per favore Ma cosa, regà Che combina Sta Shotaro Ok, ok Mi va bene Perché c'era il camion rampa Lì Altro camion rampa Regà Tutto ok Tutto ok Non vi preoccupate Dai, dai Che adesso ci siamo Frena C'è chi sta lì No, no, scendi giù Oh mio Dio Stavo così per morire Ok Allora Cosa abbiamo qua Decimo checkpoint Addirittura Ah Aspettate Eh, questo è trolloso Se arriva un camion rampa Se non hai guai Allora Scendiamo giù Ok, ok Dai, eh Bello rapido Ole, ole Andiamo, regà Ah Vi devo dire pure Un'altra cosa Che mi ero dimenticato Praticamente Su TikTok Dovrebbero uscire I video Da tre minuti E volevo fare Tipo Delle mini Carie Cioè Dei mini Gameplay Solo per TikTok Che duravano tre minuti Perché Posso fare Le gare stante Regà Le gare stante Che se metto due giri Dura tre minuti Quindi diventa un mini Gameplay per TikTok Ed è spettacolare Fatemi sapere se volete Questi mini gameplay Se ovviamente avete Tiktok Madre mia Madre mia Madre mia Eccoli Questi sono i primeri Dobbiamo fare attenzione Posso fare anche Dei mini face to face In miniatura Cioè Devo cercare Quei face to face Che durano tipo Tre minuti No 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 Mamma mia La perfezione La perfezione Un messaggio Bella sui Mi aggiungi Forse l'ho aggiunto Poco fa Credo di sì Ho inviato la richiesta Regà Allora Anticheck 12 su 15 Eh Quasi finito Quasi finito Perché ci portiamo Questa bella prima A casa Andiamo Andiamo Tanto abbiamo L'autoramp Possiamo stare tranquilli No Non te trollo Eh sui Sei venuto te contro di me Ok Prena Perfetto C'è che sta lì Ole 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 Ci siamo Abbiamo qui Rocket Voltic Bellissima Che dite Rischiamo di nuovo Io direi di no Perché Sta arrivando pure Altra gente Regà No Non voglio rischiare Togliamo il turco Ok Allora Te due Vai Perfetto L'autoramp Sì Ci siamo Ci siamo Non vi preoccupate Via 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 Non riesco a vedere Su Regà Ok Ok Non c'è nessuno Perfetto Ole Mettiamo il turbo Ok Shotaro E c'è il traguardo Regà È finito il face to face Mega rampa Tranquillo Comunque Sì sì Ma più che altro Perché ci stanno sui Nieducati Mica ci stanno I Harlin Ah no Regà Manca ghost flughe Ok Andia Andia Belli veloci Allora Che sappiamo Come l'ultimo veicolo Regà Non lo so Frena Ah Cambio una rampa Cambio una rampa Ci conviene respawnare Sì sì Tanto il check stava All'inizio Ok Andiamo Ole ole Perché posso giocare Mini GP pure Su tiktok Regà Da tre minuti Non lo so Comunque fatemi sapere Noi commenti No no Aspettate 33 secondi Da Manuel Lazio Comunque è crashata Un po' di gente Perché faceva pure Fatica ad entrare 33 secondi Dove sta Ma non vedo Cambio una rampa Dai Questa è Primera Primera Super Primera Facciamo una rampa Pericoloso Invece è tutto Ok Non vi preoccupate Facciamo così Regà Andiamoci a prendere Questa bella Primera posizione Dove è andato Quello Regà Non lo so Ok Ok Ci siamo Ci andiamo a prendere Questa bella Primera in drift Io Direi proprio Di sì Allora Aspettate Drift Asui All Se vi è piaciuto Questo face to face Mega rampa Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci invecchiamo Al prossimo Vi più bello Aspettate 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 Grazie a tutti.